buongiorno allora sono qui per fare una piccola comparativa tra l'hot dog della pizzeria d'avice e l'altro che è l'hot dog del panificio la vittoria eccoli qua allora uno è fatto tutti e due fatti con l'impasto della pizza che solo che questo qui è cotto al forno questo qui è fritto e non mi ha mandato il figlio lo dog della del panificio La Vittoria è fatto con l'impasto della pizza, sì, però è fatto al fuoco. Grazie a tutti. E adesso, degustiamoci anche l'ordog della pizzeria. L'ordog della pizzeria, come ben sapete, è fatto sì anche questo con l'impasto della pizza, però è fritto, l'hanno fatto fritto, perché lo hanno fatto fritto, quindi veniamo e ne è cotto molto velocemente rispetto al panificio qua, perché qua lo fanno alcuno e là lo fanno la pizzeria, come ben sapete. 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 come ben sapete. la pizzeria, come ben sapete. va bene ragazzi, questo è tutto. noi ci vediamo a prossimo. Ciao. 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 ciao.